Bottiglie, sacchetti, ma anche pezzi di biciclette e altri rifiuti abbandonati. È scattata giovedì mattina la pulizia straordinaria di ASM Pavia nei giardini del centro commerciale Minerva in Viale Cesare Battisti. Se noi siamo sempre intervenuti, interveniamo, quindi non è vero che non si è mai interessati di quest'area. È un'area privata. Giustamente, essendo un'area privata, ci dovrebbe pensare, quindi il condominio, a far ripurire i giardinetti. Ma, come anche in passato è successo, siamo sempre intervenuti. L'amministrazione e ASM è intervenuta per dare decoro a questo spazio. In quest'area viene spesso segnalata una situazione di degrado diffuso. I giardini sono un punto di ritrovo per gruppi di persone anche senza fissa dimora. Alcuni di loro, nelle scorse ore, hanno personalmente riempito diversi sacchi di rifiuti, così che gli uomini di ASM potessero ritirarli e smaltirli. In effetti hanno ascoltato il mio consiglio e nei giorni scorsi, quando abbiamo fatto un intervento sul piazzale della stazione, che abbiamo pulito, siamo intervenuti, ma l'intervento è costante, è sempre, ogni anno, quindi è presente un operatore di ASM, ho consegnato personalmente questi sacchetti e i ragazzi, questi senza fissa dimora, infatti mi hanno preso alla lettera, hanno preso alla lettera le mie parole, e quindi sono venuto qui a dare una mano, quindi a confezionare dei sacchi e quindi riempendolo di bottiglie di acolici. Adesso noi qui stiamo, quindi vedete tutta l'ASM, quindi sta intervenendo, quindi raccogliendo quei sacchetti, mettendo un po' ordine e decoro a quest'area. Il comune nei prossimi giorni incontrerà i soggetti proprietari dell'area. L'obiettivo è arrivare a una soluzione condivisa, in modo da risolvere definitivamente il problema dell'abbandono di rifiuti. Quest'area è un'area di più soggetti proprietari, quindi c'è una parte del comune, una parte di regione Lombardia, una parte di S. Lunga, una parte del supercondominio che gestisce il centro commerciale, quindi tutto insieme diventate delle soluzioni condivise per risolvere questo problema, e quindi fare azioni più concrete, dirette.